Sono in fase di completamento i lavori per la rimozione della cera dopo la processione di Sant'Agata. Gli ultimi interventi hanno interessato il tratto di via Caronda tra via Monserrato e via Le 20 Settembre e quello di via Etnea tra la villa Bellini e piazza Stesicoro. Intanto è vietato il transito ai mezzi a due ruote, mentre il limite fissato è di 20 km orari. Sono centinaia gli addetti che hanno lavorato con le squadre specializzate e una quarantina ai mezzi meccanici impiegati. Per far sparire cera e segatura sono state utilizzate lancio idrogetto a pressione e una speciale spazzatrice con le setole d'acciaio. La cera rimasta è stata poi sciolta con torce all'acetilene e ricoperta di segatura, prima di essere nuovamente spazzata via. Dopo la conclusione dei lavori sarà istituita una commissione di collaudo costituita da tecnici e da un rappresentante della Polizia Municipale che dovrà decidere sulla riapertura delle strade.